Si è concluso il Giardino delle Meraviglie, ciclo di incontri promossi dalla Biblioteca della Regione Piemonte, aderendo al progetto Salone Off. Nel corso degli appuntamenti sono stati presentati libri e si sono svolti spettacoli. Tra quelli musicali anche la serata dedicata al gruppo Ame Manera, che reinterpreta antichi brani della tradizione piemontese in una veste contemporanea e moderna, ma sempre rispettosa della cultura e della gente che li ha creati. Ame Manera è il nostro progetto che parte dal 2010, noi attraverso questo progetto abbiamo ripreso i brani della tradizione piemontese e li abbiamo rivestiti di tutte le nostre esperienze musicali. Abbiamo suonato e cantato tutti i diversi generi, dal folk al jazz al pop al rock e tutto in lingua piemontese, quindi partendo dalle radici ma con uno sguardo verso il mondo. È un modo di sentire la musica piemontese come non si è mai sentita fatto in questo modo qui. È rivolto soprattutto ai giovani che riscoprano le loro radici e che riscoprano le grandi melodie della nostra cultura, che sono andate un po' perse. In più noi abbiamo aggiunto i brani nostri e ne è venuto fuori questo repertorio che sta avendo successo anche fuori ragioni.